Giuventù bruciata, baby gang o solo fatalità. Cosa sta accadendo ai giovanissimi in Campania? E poi solo in Campania? Nel Casertano un quattordicenne rischia la vita per un proiettile vagante. A Napoli le gang dei minorenni si impadroniscono della città e giocano, si fa per dire, a uccidere coetanei. Storie diverse ma con protagonisti minorenni. Ero a casa con mamma e la difesa del quindicenne è fermato alla vigilia di Natale a Napoli con l'accusa di far parte del commando, ripreso da alcune telecamere, che ha accoltellato lunedì 18 dicembre nel centro della città in via Foria, Arturo, un diciassettenne che stava ritornando a casa per rubargli il telefonino. Il minorenne davanti al GIP ha respinto le accuse, sostenendo di trovarsi con la madre e altri parenti il pomeriggio in cui è avvenuta l'aggressione. I familiari saranno sentiti nei prossimi giorni. A sostegno del proprio alibi, il quindicenne, appartenente a una famiglia di incensurati che non ha alcun legame con la malavita, ha raccontato che stava navigando su Facebook mentre Arturo veniva brutalmente aggredito. Il quindicenne frequenta la scuola superiore e ha recitato nel film di prossima uscita La paranza dei bambini. Il minorenne però sarebbe stato riconosciuto dalla vittima e da un altro ragazzo aggredito poco prima. Arturo, dopo essere stato in gravi condizioni, è ora sotto controllo all'ospedale Monaldi di Napoli. Invece è ancora in coma nell'ospedale di Caserta il ragazzo di 14 anni colpito da un proiettile vagante il 24 dicembre a Parete, paesino del Casertano, a ridosso dell'area metropolitana di Napoli. Il bambino rischia di rimanere seriamente menomato, ma ancora non si è capito cosa sia successo. L'ipotesi più concreta al momento è anche la più assurda, che qualcuno volesse festeggiare il Natale con dei colpi di arma da fuoco e che uno di questi, per sbaglio, abbia colpito proprio il piccolo Luigi.